L'hotel Cesar de Lido di Camaiore ha tenuto a battesimo il debutto del neocommissario tecnico della Nazionale Azzurra di ciclismo Davide Cassani. Con lui ci sono convocati alcuni degli atleti che fanno parte della Nazionale, oltre agli stradisti anche i cronomen, alla vigilia del Gran Premio Città di Camaiore, in programma giovedì 6 marzo sulle strade della Versilia. Un appuntamento importante al quale anche molti di questi atleti in ritiro qua al Lido di Camaiore prenderanno parte. Emozionato ovviamente il neotecnico della Nazionale che debutterà proprio in questo nuovo ruolo al Lido di Camaiore. Sarà la mia prima corsa che seguirò come commissario tecnico, qui ho vinto nel 92, qui ho fatto l'ultima telecronaca con Adriano De Zanna e qui ho fatto il mio primo ritiro quando ero ragazzino nel 1979. Quindi tanti ricordi che mi ligano a questa terra. Che Gran Premio si attende quest'anno? Io penso che il cambio di data sia stato qualcosa di positivo perché ci sono più corridori, c'è più qualità. Mi aspetto una corsa battagliata anche perché il percorso classico comunque permette a corridori in forma di potersi distinguere sul pitoro, sulla salita che ha sempre deciso il Gran Premio di Camaiore. Presente anche il presidente della federazione Renato Di Rocco e a salutare i corridori in ritiro al Lido, anche alcuni ex come Bartoli, come Petacchia. In queste ore ha abbandonato il ritiro Vincenzo Nibali che potrebbe diventare padre a momenti.